Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Bene, io ho scaricato Yu-Gi-Oh! dalla Playstation 3 E' uscito da poco E adesso vi do anche il titolo Vediamo se... Allora, si chiama Yu-Gi-Oh! Millennium Duelz L'ho scaricato proprio ieri sulla Playstation 3 E direi che l'ho trovato interessante Visto che si può giocare anche in multiplayer Allora, adesso vi faccio vedere un piccolo video Farò una battaglia contro Thea E così vediamo più o meno di quello com'è Logicamente il deck sarà quello standard Diciamo che le carte si devono sbloccare con le cose lì Beh, se conosciute Yu-Gi-Oh! sapete benissimo le regole del gioco Niente, vi lascio il video, spero che vi piaccia E mi raccomando condividete i miei video Un saluto ragazzi Ciao e buon proseguimento Ciao e buon proseguimento Ciao e buon proseguimento Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.